Lo scandalo di Chiara Ferragni è appena peggiorato terribilmente. Eravamo rimasti due giorni fa con le scuse dopo che è stata multata con l'accusa che avrebbe fatto intendere che ricavato delle vendite nel suo pandoro sarebbe stato donato per i bambini malati di cancro. E in queste ore, oltre a continuare a perdere decine di migliaia di follower, è appena saltato fuori un altro scandalo ancora più grosso che riguarda un'altra collaborazione, sempre della Ferri, ma stavolta per un nuovo di Pasqua. So che esiste una serie dei Ferragniets su Prime Video, ma penso che quella non è quella che vogliamo vedere. Una serie con dei colpi di scena sui Ferragniets e quella che sta succedendo ora nel mondo reale. Pena era scoppiata la notizia del Pandoro, di Chiara Ferragni, sapevo che sarebbe stato un qualcosa di cui avremmo sentito parlare per parecchio tempo. E così è stato. Ma mai mi sarei aspettato che sarebbero saltati fuori così tanti retroscena sulla coppia più famosa d'Italia. E soprattutto che avrebbero continuato a peggiorare sempre di più. A questo punto comincio a pensare che forse era solamente la punta dell'iceberg e che ora stiamo assistendo all'inizio della fine dei Ferragniets per come li abbiamo conosciuti, la caduta del loro impero. E naturalmente con caduta del loro impero non intendo che tutti smetteranno di seguirli. Ovviamente non è così. Nonostante l'enorme numero di gente che l'ha abbandonata, ci sono ancora tantissimi lobotomizzati nei loro commenti che li difendono. Ma mi riferisco alla loro immagine di influencer moralisti, femministi, progressisti che sopra un piedistallo sono sempre messi a fare la ramanzina e la morale a tutti gli altri. E alla fine sono caduti dal trono. Questo è il terzo video della trilogia della Ferri e la beneficenza. Nel primo video abbiamo parlato della multa di poco più di un milione per le sue società e di circa 400 mila per Balocco. Con l'accusa dell'autorità di aver fatto capire alle persone che acquistando il panettone avrebbero contribuito alla beneficenza per i bambini malati di un ospedale. Quando in realtà la donazione, secondo quanto riportato, era già stata fatta prima solo da Balocco con una cifra non correlata alle vendite. Nel secondo episodio abbiamo visto le scuse di Chiara Ferragni, scuse dove piangendo ci dice che è stato un errore di comunicazione e che per farsi perdonare donerà un milione di euro a quel famoso ospedale. E ora arriviamo al terzo episodio di questa tragedia perché ora sui giornali è saltato fuori che secondo qualcuno ci sarebbe stato qualche altro piccolo errore di comunicazione. Infatti secondo diversi giornali ci sarebbe stato un errore di comunicazione davvero simile ma che stavolta non riguarda il pandoro ma delle uova di Pasqua. Infatti secondo un articolo del Fatto Quotidiano scritto da Selvaggia Lucarelli leggiamo che Ferragni non basta la patacca pandoro ora tocca alle uova. Scrivendo poi che le collaborazioni avrebbero fruttato in totale un milione e duecentomila ma solo poche migliaia sono andate all'associazione. Qui il rapporto è ancora più assurdo perché andando avanti in questo articolo viene scritto che a fronte degli 1,2 milioni per l'uso del brand solamente 36 mila euro sono stati donati. E già la prima volta la storia dell'errore di comunicazione ha fatto dubitare diverse persone diventerebbe ancora più strano perché qui noi stiamo parlando di una a caso che è diventata famosa mostrando due foto del culo e ora sponsorizza i gruppi scan di Telegram. Lei ha 30 milioni di follower ed è una delle influencer più famose di tutta Italia ma adesso andiamo a leggere per bene quello che è stato fatto con quest'uovo perché non crederete ai vostri occhi davanti a queste somiglianze con l'ultimo errore di comunicazione. Queste collaborazioni sono state fatte nel 2021 e 2022 quindi due anni con Dolci Preziosi e sono ancora visibili pubblicamente perché sono stati ripubblicati dal profilo Instagram di Dolci Preziosi il che vuol dire che possiamo andare a leggere quello che è stato scritto pubblicamente su questa collaborazione. Ci sono parecchi post che sono stati fatti su questa collaborazione perché appunto c'è stato sia nel 2021 che nel 2022 ma vi leggo la descrizione di qualche repost che è ancora disponibile nel profilo di Dolci Preziosi e poi ditemi nei commenti quello che capite. Il primo dice Regaliamo un po' di dolcezza a questa Pasqua Le mie uova realizzate da Dolci Preziosi supportano i bambini delle fate un'impresa sociale che si occupa di sostenere le famiglie con autismo e altre disabilità Un altro ci dice La Pasqua vicina è il momento giusto per fare del bene senza rinunciare alla dolcezza dell'uovo di Chiara Ferragni realizzato con Dolci Preziosi Questo progetto sostiene i bambini delle fate Ecco come nel caso del Pandoro se voi fosse dei fan di Chiara Ferragni a cui capita per caso di vedere questo post nella home che cosa pensereste? Perché magari sono stupido io ma io penserei che effettivamente comprando questo avevo di Pasqua una parte dei soldi che spendo sarebbe finita in beneficenza a quell'associazione e dunque ci sarebbe stata una netta correlazione tra vendite e donazioni Questo è ciò che capirei io e non sono stato l'unico stupido perché infatti vengono riportati anche dei titoli di diversi giornali che riportano notizie in questo modo eppure non è stata fatta nessuna rettifica Eppure secondo Selvaggia Lucarelli che so che a tanti non piace e nemmeno io sono un suo fan ma ricordiamoci che lei già un anno fa aveva parlato del caso della donazione del Pandoro che poi è finito con una multa un anno dopo Ebbene, lei ha scritto un articolo dove vengono dette come sarebbero andate le cose secondo lei e secondo altre fonti E tutte le cose che andremo a vedere oggi non sono accuse che mi sto inventando io o che sto facendo io ma sto riportando quello che c'è scritto in questo articolo e che troverete in descrizione Scrive di aver chiamato Franco Cannillo l'imprenditore che ha acquistato Dolci Preziosi che dice, cito testualmente quello che è contenuto in questo articolo Assolutamente non c'è stata correlazione tra le vendite delle uova e la donazione ai bambini delle fate Ferragni è stata pagata per aver ceduto la sua immagine noi abbiamo fatto una donazione per lei non era da contratto per quanto invece riguarda quanto è stata pagata viene detto a memoria 500.000 euro nel 2021 e 700.000 circa nel secondo anno poi ci ha chiesto una cifra esorbitante e non abbiamo più chiuso il contratto in questo caso però a differenza del caso di Panettoni chi viene scritto che l'operazione sarebbe stata un gran successo ma ora arriviamo alla parte ancora più interessante di questo articolo del fatto quotidiano infatti dicono che hanno contattato anche il destinatario della donazione Franco Antonello dei bambini delle fate e quello che viene riportato è che lui avrebbe letto che hanno stretto un accordo con Dolci Preziosi che avrebbero voluto scrivere che la donazione era legata alle vendite ma loro si sono rifiutati hanno permesso di usare l'espressione sosteniamo i bambini delle fate quando mi viene chiesto quanto è veramente ricevuto di donazione viene scritto che preciso che per l'operazione Uova non abbiamo mai avuto contatti con la Ferragni ho provato a contattarla e parlarle ma non è stato possibile ci sono stati donati da Dolci Preziosi un anno 12.000 euro e l'altro anno 24.000 euro mi stupisce che abbiano dato 700.000 euro per il testimonial e 12.000 euro per il sociale è una vergogna il soldi che ha peso di cachet non è nemmeno l'unica cosa positiva per lei e il suo brand perché ricordiamoci che facendosi vedere che fa beneficenza migliora di molto la sua immagine e tra l'altro un'altra cosa interessante da notare nell'articolo di Zerbaggio Lucarelli è che quando parlo con l'imprenditore che ha acquistato Dolci Preziosi viene riportato che avrebbe detto sosteniamo i bambini delle fate è quello che abbiamo fatto sosteniamo non vuol dire che se compri vai a sostenere la beneficenza significa che noi abbiamo fatto una donazione e lo comunichiamo personalmente non sono molto d'accordo con questa parte perché se viene iscritto su un certo prodotto che sostiene una certa associazione io mi aspetto che gli acquisti di quel prodotto vadano a contribuire con la donazione anche perché altrimenti avrebbero potuto mettere quella dicitura che loro sostengono i bambini delle fate su ogni loro prodotto se non era solamente quel singolo prodotto a sopportare la beneficenza ma l'azienda in generale che ha fatto delle donazioni cioè se adesso vi dicessi di abbonarvi e fare delle donazioni perché supporto i senza tetto nel mondo voi capireste giustamente che una parte dei soldi che mi date andrà in beneficenza e invece volevo solamente dire che settimana scorsa ho dato 30 centesimi a un senza tetto fuori da un supermercato in questo caso penso proprio che ci sarebbe stato un grande errore di comunicazione per citare qualcuno e comunque per l'antitrust ci tengo a specificare che era solamente un esempio stavo scherzando non chiedo soldi per nessuna beneficenza e se tutto quello che viene scritto in quest'articolo fosse vero è veramente grave e quasi anche peggio del caso del pandoro perché qui sarebbe stata interpellata anche la parte che ha ricevuto la donazione e che avrebbe detto di non aver avuto nessun contatto con lei e anche provandoci non ci sono riusciti nell'articolo viene anche detto che la parola balocco nei commenti del suo post sarebbe stata bannata dopo che un anno fa aveva parlato dell'operazione con balocco e che ora starebbe cancellando i post da instagram della collaborazione con dolci preziosi per quanto riguarda la cosa dei commenti non ho modo di dimostrare che sia vero quindi lo prendo un po' con le pinze ma tutto il resto del contenuto di questo articolo è veramente pesante anche perché quello che lo rende ancora più negativo per la Ferragni sono le tempistiche con cui è uscito perché se riprendiamo la timeline prima è scoppiato lo scandalo del pandoro e della multa che la Ferragni è stata in silenzio per qualche giorno dove io penso che lei e il suo team avranno riflettuto su come rispondere esce questo video di scuse e solo dopo viene pubblicato l'articolo sulle uova di Pasqua e questa notizia penso che abbia un po' reso inutile il video di scuse perché lei gli parlava di errore di comunicazione e un errore senz'altro può capitare ma capita una volta ma se quello che viene contenuto in questo articolo fosse vero perché c'è da specificare che per ora non c'è nessuna multa su questo caso delle uova quindi dovrà verificare come andrà questo caso ma se fosse vero allora è un bel problema per chi era a Ferragni e il suo team se l'avessero pubblicato prima sono piuttosto sicuro che avrebbero gestito il video di scuse in un modo diverso per quanto riguarda comunque le conseguenze che ha avuto sul suo profilo tutto questo scandalo se andiamo sulle analitiche del suo profilo possiamo notare come aveva perso parecchi follower secondo Social Blade per esempio lei ora ne ha 29.673.000 quando fino a pochi giorni fa ne aveva 27.732.000 quindi ne avrebbe persi circa 60.000 che su 29.000.000 non sembrano tanti ma se contiamo che molti dei suoi follower sono di altri paesi e magari neanche sanno cos'è successo quelli che ha perso sono bene o male quella parte che era attiva e che danno un segnale abbastanza importante ora sono davvero curioso di sapere come risponderà Chiara Ferragni a queste nuove accuse sicuramente non potrà più dire dell'errore di comunicazione forse è quello che le conviene fare ora e non parlarne aspettare e vedere che succede con il ricorso e sperare che l'esito sia positivo è a suo favore oppure tirare fuori delle prove che dimostrano che lei le donazioni le ha fatte veramente altrimenti davvero non ho idea di come potrebbe uscirne non penso che su questa trilogia serva aggiungere altro fatemi sapere la vostra opinione nei commenti ma soprattutto fatemi sapere se dovrei lanciare anche io per la prossima Pasqua le uova firmate tweener il ricavo sarà donato in beneficenza al mio conto bancario dunque aspetto il vostro feedback e per il resto noi direi che ci becchiamo alla prossima ciao Grazie a tutti.